È davvero finito Un posto al sole tra Viola e Damiano? Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole tra Viola, Ilenia Lazzarin, e Damiano, Luigi Miele? Dopo aver seguito per settimane la loro improbabile storia d'amore? Nonostante Viola abbia scelto di tornare insieme al marito Eugenio. Sembrano esserci ancora molti dubbi e incertezze sui suoi sentimenti nei confronti dell'ufficiale. Nuovi colpi di scena appariranno negli episodi di Upass. Quindi siamo sicuri che tra Viola e Damiano di Un posto al sole sia finita per sempre? Le successive puntate di Un posto al sole ci rivelano che si stanno formando grandi tensioni tra il triangolo nato tra Damiano. Sebbene la loro storia sia temporaneamente sprofondata nel contesto, le anticipazioni della RAI rivelano nuove implicazioni per Rosa. La sua ex Rosa, Daniela Ioia, è la nostra maestra. Quest'ultima, dopo essere stata tradita da Damiano, con il quale ha passato una notte passionale, verrà contattata da Franco, Patrizio Rispo, e Angela, Claudia Ruffo, per interferire con il fratellastro. I criminali competono per essere il capo della città vecchia, il nuovo arrivato. Il suo pericolo è Edoardo Sabbiese, Fiorenzo Madonna. Stiamo parlando dello stesso uomo che ha ferito Damiano, e che ora punta a una nuova vittima, la povera Giulia Poggi, Marina Tagliaferri. Nuovi scontri con la criminalità organizzata possono riaccendere il rapporto tra Damiano e Bruni? Ricordiamo infatti che la maestra decise di lasciare Eugenio proprio a causa dell'aggressione del camorrista Lello Valsano, Gianluca Pugliese, che lei ferì insieme alla povera Susanna. Per saperne di più non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, andate in onda per la prima volta su RAI 3. Grazie a tutti.